E' arrivato il fatidico giorno per i lupi che nella giornata di oggi sono chiamati a consegnare alla Lega tutti i documenti necessari per l'iscrizione al campionato di Serie D. Da oggi dunque per il rosso-blu partono due settimane di fuoco sul mercato prima del ritiro. Per quanto riguarda le possibili conferme si torna a parlare con il difensore Ferragni e l'attaccante Alessandro. Probabilmente riconfermati anche il capitano Filippo Gattari, l'attaccante Giuseppe Todino e i centrocampisti Alessandro Rinaldi e Michele Lansillotta. Tra gli obiettivi di mercato del Campobasso, illizza per la mediana Fabio Meduri, classe 1991, gialle e dipendenze del neo-mister del rosso-blu Raffaele Novelli a Barletta. Tra conferme e acquisti c'è anche qualche perdita. L'anno prossimo infatti giocherà nell'Avezzano Orlando Aquino, attaccante in forza al Campobasso. Come Aquino in precedenza si era accasato un altro giocatore non confermato del rosso-blu, il centrocampista Francesco Bontà, passato alla Iesina. Situazione infelice invece per le squadre Pentre e Teguela per Lisernia, che decide di non formulare alcuna domanda di ripescaggio per fronteggiare il debito con l'Olympic. Sentito invece l'appello alla popolazione da parte dell'Olympia nionese, che chiama a sostegno i cittadini per la raccolta fondi.